la conversione di un grande finanziere americano tratto da i protetti della gran signora di paolo fantin il signor john moody la cui entrata formale nella chiesa cattolica è avvenuta verso la fine del 1931 è uno dei più grandi e competenti finanzieri degli stati uniti buon per lui che ha capito che c'è una questione immensamente più importante di tutte le questioni finanziarie cioè la salvezza dell'anima che vale più che tutto l'oro del mondo e gli stesso ha raccontato in una conferenza tenuta al seminario di baltimora la sua non comune conversione prima dice egli quando udivo che qualcuno si era fatto cattolico ero solito ripetere questo certamente non accadrà mai a me ma quando la luce celeste si è fatta strada nella mente si è dichiarato vinto studioso per natura era passato attraverso varie concezioni dell'idea religioso filosofica senza però mai sentirsi soddisfatto e tranquillo e confessa così giunsi al 1920 quando dovetti concludere che la filosofia moderna non ha nessun valore non sapevo in che cosa credessi non trovavo una risposta alla ragione della vita una situazione questa cui provengono i più di coloro che hanno poco studiato ed analizzato ci si muove sempre in un circolo e non si raggiunge mai la meta la disgrazia dell'uomo mediocre che non è realmente uno scienziato consiste in ciò che egli giura sul verbo delle autorità autocostituitesi egli aveva studiato varie religioni ed era persuaso che in queste non avrebbe trovato quella soddisfazione ai suoi dubbi che andava cercando ma non aveva guardato dentro al cattolicesimo perché avevo dice un innato pregiudizio contro la chiesa cattolica ero giunto all'età di 50 anni passati disilluso di tutto quello che avevo provato ma cercavo pur sempre una risposta al problema della vita presto dovevo trovarla nel 1927 verso la metà di agosto con un amico si recava a vienna per affari di banca una mattina con l'intenzione di affrettare l'ora della colazione entrarono nella magnifica cattedrale di santo stefano era il 15 agosto la cattedrale era gremita di gente e si celebrava una funzione solenne loro primo pensiero era stato quello di uscire per tornarvi un altro momento ma spinti dalla folla si erano trovati in mezzo alla chiesa senza possibilità di uscire il presbiterio era pieno di ecclesiastici e si eseguiva una musica meravigliosa nessuno dei due aveva mai assistito ad una messa in una chiesa cattolica ora però si trovarono presi e si doveva restare però anche quando la folla si diradò il nostro finanziere non sentiva più il bisogno di uscire una certa commozione lo turbava tanto che quando al suono del campanello tutti si inginocchiarono e gli propose al suo amico di fare altrettanto ma quello gli rispose come come uomini di affari come noi ci inginocchieremo sulla dura pietra del pavimento che sciocchezza e restarono in piedi sebbene il mistico rito e la musica avessero suscitato nel finanziere grandi interesse pure ciò che aveva suscitato un fascino speciale sul suo spirito era un altarino sul quale si vedeva una stato della madonna davanti alla quale i fedeli si fermavano a pregare ciò destava in lui una curiosità di cui non sapeva darsi spiegazione lebbe quando seppe che quell'altare era dedicato alla vergine assunta di cui in quel giorno si faceva la festa finita la funzione uscirono tutto il giorno furono assorbiti dagli affari ma verso sera rimasto solo mudi gironzolando per la città senza una meta si trovò di nuovo sulla piazza di santo stefano quasi automaticamente fu spinto ad entrare nella chiesa quando la gente usciva dopo i vespri e la benedizione si portò presso l'altarino della vergine tuttora illuminato che al mattino gli aveva fatto tanta impressione alcuni devoti andavano e venivano ginocchiandosi mentre a poco poco le candele della chiesa si spegnevano rimanendo sempre accese quelle della madonna la luce del tramonto entrava per le belle vetrate riempiendo l'anima di un senso indefinito di mistero e di pace l'ora della grazia della misericordia non era più lontana ma lasciamo a lui la parola vi sono momenti oppure ore che arrivano una volta a tutti per quanto uno possa essere indurito e mondano lo afferra allora il tremendo mistero della vita che lo lascia sorpreso e lo richiama anche alla preghiera risveglia in lui qualche cosa che sonnecchiava spinge l'anima sua ad implorar luce guida aiuto quest'ora era arrivata proprio allora per me quando io in quel tardo pomeriggio mi inginocchiavo in quel posto e osservavo i raggi del sole le ombre avvolgenti il tremolio della piccola fiammella rossa davanti all'altare oppure il passare silenzioso di qualche sacerdote attraverso il presbiterio e le persone uomini e donne che entravano e quasi tutti venivano ad inginocchiarsi l'altare della madonna della madre di dio facevano una breve preghiera se ne andavano allora implorai veramente anch'io luce e guida da 25 anni avevo dubitato dell'esistenza e della necessità di dio avevo creduto come gli uomini moderni che tutte le fedi religiose fossero poesia e pura immaginazione ma in fondo al mio cuore sapevo certamente nei lampi della mia sana intelligenza dovevo ammetterlo che questa filosofia è falsa la vita non significerebbe nulla se non avesse un fine e questo fine si poteva solo riconoscere attraverso la fede in dio ma dove era questo dio perché non potevo trovarlo questo era sempre stato l'enigma e la causa permanente dei miei disinganni ma durante quella contemplazione che durò per più di due ore ho provato quello che dice il cardinal newman quando una volta un uomo con gli occhi della sua anima e con l'aiuto della grazia divina riconosce il suo creatore egli ha passato l'equatore quello che egli allora prova non lo proverà una seconda volta egli ha piegato il suo rigido dorso ed ha vinto se stesso allora non conoscevo queste parole dell'illustre cardinale ma prima di lasciare la chiesa che si avvolgeva sempre più nell'ombra sapevo di aver attraversato l'equatore ed uscii con la preziosa persuasione di aver trovato con l'aiuto della divina grazia il mio dio durante i tre giorni che restamo ancora a vienna mi recai ogni mattina per tempo in santo stefano dove mi attraeva il piccolo altare della madonna nelle 22 ore che durò il viaggio da vienna a parigi non pensavo ad altro senza poter né dormire né leggere perché il ricordo della cattedrale di santo stefano occupava tutta la mia mente per quanto possa sembra strano erano cadute tutte le mie prevenzioni contro la chiesa cattolica e sebbene dovessi fare ancora molta strada prima di passare il sogno della chiesa fin da quel giorno dell'assunta del 1927 vi era in me il cattolico in formazione fin qui egli tornato a new york si diede a studiare a fondo la nostra religione quattro anni dopo entrava nella chiesa cattolica naturalmente la sua conversione fece molta impressione in mezzo a quanti lo conoscevano e qualche tempo dopo riceveva da un amico agnostico in religione questa lettera mi hanno detto recentemente che avete abbracciato la religione cattolica naturalmente non lo credo la persona che me l'ha detto è un burlo o un pazzo se no siete voi il pazzo io non so nulla di cattolicesimo ma ma è inconcepibile che un uomo della vostra intelligenza possa abbassarsi ad un tale arruffio di ignoranza di bigottismo superstizione e non senso per me non potrei accettare nulla che non fosse basato sulla ragione e sul senso comune se realmente è vero quanto mi hanno detto allora sono persuaso che la vostra mente è in decadenza ma voglio rischiare il mio ultimo dollaro per scommettere che o si tratta di una bugia o di una burla alla lettera del vecchio amico rispose subito sullo stesso tono voi perdereste il vostro ultimo dollaro perché è perfettamente vero che ho abbracciato la religione cattolica per adoperare le vostre stesse parole io non potrei accettare nulla che non fosse basato sulla ragione e sul senso comune è la vostra mente che è cadenza perché mentre ammettete che di una cosa non sapete nulla subito dopo asserite che nella cosa di cui non sapete nulla è un arruffio di ignoranza di bigottismo superstizione e non senso mi aspetterei questo dal vostro amico asino ignorante ma non da voi perché non cercare di vedere prima che cosa sia la fede cattolica e rafforzare la vostra mente deficiente due giorni dopo riceveva questo telegramma avete vinto studierò la cosa a fondo ed alcuni mesi dopo in calce a una lettera di affari aggiunse sto leggendo tutti i libri che mi avete mandato vecchio figlio di un cannone rischiate ancora di fare un cattolico è proprio sempre vero che l'incredulità è figlia dell'ignoranza i più grandi scienziati furono anche grandi credenti